La Bruzza è una robusta economia del primario, delle manifatture che non vanno mai dimenticate nella loro importante dimensione e anche dei servizi da quelli turistici a quelli all'impresa. Noi abbiamo considerato tutto ciò che può far ripartire, crescere questa economia ricca di potenzialità a partire da alcune terapie d'urto come la restituzione dell'Imu alle attività strumentali in agricoltura e alle famiglie per iniettare risorse nei consumi o come la detassazione del salario corrispondente ai primi contratti permanenti dei giovani o come l'abolizione della legge Fornero che devo dire ci è stata chiesta all'unanimità o da parte delle forze sociali perché sta rattrappendo la propensione ad assumere. Infine abbiamo guardato anche aspetti specifici come le potenzialità della fascia adriatica baricentrica ormai rispetto ai flussi commerciali dal Mediterraneo che significa portualità, significa infrastrutturazione della dorsale adriatica e infine abbiamo guardato anche a problemi del cratere come questa incredibile vicenda del non rilascio del DURC per non pagamenti di contributi che sono stati conformi alla legge e per questa cosa abbiamo promesso un intervento immediato. Per quanto riguarda le vertenze sono tante aperte in Abruzzo a cominciare anche da settori avanzati come la microelettronica e quindi la micro. Sì conosco questa situazione come purtroppo anche altre. Dobbiamo cercare da un lato di proteggere il lavoro avendo la disponibilità di risorse per ammortizzatori sociali in deroga oltre a quelli di carattere ordinario e dall'altro evitare di perdere in questa situazione che spesso si traduce in crisi di liquidità di imprese perdere patrimonio industriale. L'Abruzzo è una regione che ha una robusta dimensione industriale che non può e non deve perdere, ha una cultura industriale ormai sedimentata che non può e non deve perdere e quindi stiamo anche noi, ne parlavo anche con il Presidente Chiodi, che sono molto attento, molto impegnato proprio a che nella crisi sopravviva patrimonio industriale. Nella gestione dei misteri e delle arministrazioni centrali...